Per rimarcare la coerenza, noi abbiamo un progetto chiaro in testa e quello perseguiamo, non guardando il sondaggio di turno che oggi sono buoni e domani potranno essere ancora migliori o meno buoni, non mi interessa. Ringrazio una persona con cui per primo ho discusso di un tema che rimane al centro della scena, Stefano, perché noi possiamo rilanciare tutto quello che vogliamo, ma se ci fanno correre i 100 metri piani con gli scarponi da sci possiamo avere le idee migliori, le energie migliori, essere più allenati del mondo, ma se quello di fianco a me c'è le scarpe da tennis e io ho gli scarponi da sci difficilmente riuscirò ad affermarmi. Una revisione totale del senso della nostra permanenza in Europa, rileggendo e riscrivendo tutti i trattati dal primo all'ultimo. Io ringrazio Claudio Borghi che per primo mi e ci ha spiegato perché io mi sento profondamente cittadino europeo, i miei figli, mio figlio è tornato ieri da Londra e mi auro e parli l'inglese, il francese molto meglio di come non lo fa suo padre, quindi un conto è il concetto di essere parte di una comunità, un conto è la sovrastruttura antidemocratica che hanno messo come tappo su queste 500 milioni di persone che è l'Unione Europea con le sue regole astruse. Perché io domani quando vado a Tropea a incontrare i balneari calabresi mi dicono ma chi è quel genio che a Bruxelles ha deciso che la spiaggia su cui ha speso sudore e fatica mio padre e mio nonno non venga messa all'asta, miglior offerente alla prima multinazionale cinese o alla prima cooperativa rossa di turno. Quindi stare in Europa sì, ma da pari a pari, senza il cappello in mano. Quindi la riscrittura dei trattati è assolutamente parte integrante di qualunque programma di governo voglia avere la Lega al suo interno.